Tra i deboli e le persone da tutelare ci sono sicuramente i minori. Su questo, con la Corte d'Appello, si è iniziata un'attività di interlocuzione proficua, a mio parere, per cercare di individuare a livello territoriale dei criteri univoci e determinati per quanto riguarda l'accertamento della capacità genitoriale nei procedimenti civili. La questione minorile è un problema di questa Regione. Da anni la Regione Umbra segnala come vi sia un aumento di adolescenti che fanno uso di sostanze stupefacenti e come il ricovero di adolescenti per abuso di sostanze stupefacenti sia superiore alla media nazionale. Per quanto riguarda la situazione del carcere, anche in questi istituti nella Regione vi è un sovraffollamento. Per questo va accolta con favore l'innovazione contenuta nella legge delega della giustizia riparativa. È costante aumento in questi anni il numero di omicidi colposi per infortuni sul lavoro. Un tema di cui forse troppo poco l'opinione pubblica parla, se non in occasione di gravi incidenti. Un discorso a parte merita la criminalità organizzata. Anche in quest'anno non viene segnalata la presenza e il radicamento stabile di organizzazioni mafiose. Ma questo non deve farci illudere che non ci siano i pericoli. I pericoli ci sono e derivano dai finanziamenti pubblici, sia in conseguenza della ristrutturazione dopo il terremoto del 2016, sia per i fondi che arriveranno con il piano di resistenza e di resilienza. Il fatto che la Regione Umba venga definita come altre Regioni una zona franca è proprio il terreno ideale per le infiltrazioni criminali mafiose, che trovano in queste Regioni il terreno dove poter riciclare il denaro e tutti i proventi derivanti da attività direttuose, avvalendosi a volte anche di professionisti che si prestano con servizi.